Lo quale mi chiede agrega, o mi pregunto, mi ti pregunto pa nostro pueblo, nostra società. Mi ammira arriva un windshield di differente auto, Happy Green. E poi arriva Robin Hood, vestita verde, che si chiamano il gruppo di Hombro, Allegri. E pregunto a voi, cittadano, a voi? Si, a voi mescota mirami, con un sticker arriva un'auto, bo sta happy? Qui cota bua allegria? Explicami, pa mi componder, quizás mi tambe, po' un sticker arriva un'auto, com mi sta happy. Quizás, il subimento di edad di pension, di 60 pa 65 anni, sta convertivo di un'auto, un'auto, allegri? Quizás, in medida, non, con abo, i boiuna, i bo nieto, non mi ste vai pagar, sta convertivo di un'auto, allegri? Quizás, è attracco, non, contra i un'auto di mamma. Non ti renda den cas di nos grande, non ti maltratan, non ti batinan, e, dispois, vai con un' pertinencia. Mi aliesa den correnti, co te asta, nas sali, na carreta, bandona caas. E se, ta si, abo, happy? E se, tabo, allegria? Mi kier, pa bo contestami, si e sa qui, tabo, allegria. Buono por cumpra, mas, e produtu, non por a cumpra, 9 anni a passa, o eschen florin. Baby, yo, bozo a subie, bozo a subie barbaramente. E gobiaron, a que subie? A bo, ta happy? Convencemi, convencemi pa mi join, bu, mi tami, ka ta happy? Tu replaca nang, co na kita fei instituto nang, e beidrag nang, na notarie mas. A la vez, na ga mostra, co e mocha chiquito, mi este paga pa su estudio. Na ga mostra, que mocha chiquito, mi se paga airco health. A bo ta happy, pe say? Pe say bo ta happy? Wack, tin mil i un punto, o ta trata, e dolor de pueblo aqui. Mil i un. no. Pero mi ti un noticia, pavo. Un noticia so. Mi no tabai visabo, kiko ta e plan, e alternativa nang. Mi no tabai visabo, poeblo. Vos tabaki, ke men po visabo? Paso, a vp ta copy, peist nang. Nang tiun, politica, psihologico, nang apresenta, mes un plan, tanto avp1, di Mike, avp2, di Por, Otmar, apresenta, mes un alternativa, pero no mas, nang tiun, 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 Mi chiede, no? Mi chiede, reflexionare, pensare, usa bocabez, reflexionare, un gruppo E' un sticker con un effetto psicologico, per mostrare quel ambiente è buonissimo E' un banco che si occupi il governo qui, il banco che si occupi il presto, per mostrare quel ambiente di felicità E' quello che stai facendo? 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 Tiene il plan A. E' un po' di soltà, per i soltare un po' di soltà, e' un bota verde E' un bota verde, e' un bota verde, per i soltare il mio figlio di 50 florini, perché io che io ho trevi di 3 anni Non c'è tempo di cuore, poi io ho qui l'avivano 8 anni Però è che questo non è quello che stai facendo?